Piace Moschella e Mulè, il nuovo format teatrale messo in scena dagli attori palermitani Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè al Dorian Art di Piazza Don Bosco. Il servizio è di Paola Pottino. Due Masterchef teatrali che presentano al pubblico portate di cabaret teatro. Sono gli attori palermitani Emanuela Mulè e Giuseppe Moschella che ogni venerdì al Dorian Art di Piazza Don Bosco mettono in scena il format a qualcuno piace Moschella e Mulè. Se vi piace il cabaret, se vi piace il teatro, se vi piace la buona musica, se vi piace la buona cucina, vegetariana, vegana ma anche normale, se semplicemente a qualcuno piace Moschella e Mulè, ecco noi abbiamo gli ingredienti per voi. Nel corso dello spettacolo si sono esibiti la cantante Valeria Milazzo accompagnata dal chitarrista Carmelo Pinzone ed è stato anche presentato il concorso alla ricerca dell'artista perduto dedicato a chi tra il pubblico ha voglia di esibirsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.